Direttamente dall'arena di Colle Valdenza, la sfida per i tessi idioti, la finale, alla nostra destra, all'angolo destro, gli ultimi tre navi in superstiti guidati da coach Koala Idiota, si prepareranno per questa grandissima sfida. E all'attenzione, all'angolo sinistro, colui che è cresciuto all'ombra del Vesuvio, il Mastino Napolentano, Enzo Vincenzo. Brava! È lui, allena, ti allenati. Spaventa l'avversario, spaventa l'avversario. Spaventali, spaventali. Il primo inco... Vai, primo round. Oh, aspetta, aspetta. L'atmosfera è carica. No, no, vai, vai, siamo a posto. Pimoround. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Secondo round. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ti, 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 ti. Il terzo, veloce. Ci manca solo uno. La sfida è più aperta che vai. Basta, basta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ti, ti, ti. And the winner is... Aspetta. Ti ha sfigato anche il cuore. È finita. Vince. Enzo. And the winner is... Enzo Vincenzo. Oh. And the winner is Enzo Vincenzo. Intervista. Come è sembrata questa sfida? Questa sfida com'era? Molto stupenda. L'ho vettuto quanto tre sfidanti molto importanti. Sono stati per me molto difficili, ma alla fine ce l'ho fatta. Ciao, amore. Adriana si sta chiamando. Adriana. Adriana. Accomando la sfida. Adriana. Adriana. Adriana.